Musica Nella puntata di Verissimo andate in onda questa domenica, Silvia Toffanino non è riuscita a contenere la sua commozione, scatenando però la furia del web. La presentatrice infatti si è lasciata andare a un pianto disperato che non è piaciuto ai telespettatori. Alla ricerca di un intrattenimento festivo più leggero e soprattutto di maggiore professionalità. Ma vediamo cosa ha suscitato le lacrime della donna. Ospite della puntata è Leonora Pedron che ultimamente ha scritto un libro che parla di una parte veramente drammatica della sua vita. L'ho fatto per te e il titolo di questo straziante racconto autobiografico. Pedron racconta di sua madre, una donna che ha vissuto il dolore di perdere un figlio, ma che ha resistito per amore suo e di suo fratello. La sua storia ha colpito molto Silvia che a Verissimo non è assolutamente riuscita a nascondere le sue emozioni. La vita mi ha tolto tanto, ma non posso lamentarmi perché mi ha dato anche tanto. Mi ha insegnato che dal dolore ci si può rialzare, ovviamente resta la ferita, ma probabilmente è giusto così. È giusto che resti perché si possa ricordare l'amore che si è provato. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie. 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 Grazie.